Chi è stato veramente padre Pio da Pietralcina? La sua figura attraversa tutto il Novecento fino alla santità voluta da Papa Giovanni Paolo II e attira su di sé non solo la venerazione dei credenti per i suoi presunti miracoli e il suo potere taumaturgico, ma anche l'attenzione di medici e di molti esponenti ecclesiastici che lo ritenevano un ciarlatano. Ma chi è stato davvero padre Pio e come entrano prodigi, misteri, politica nella vita di un frate? Era realmente capace di produrre miracoli? O la sua storia ha più ombre che luci? E' il mistero su cui indagheremo oggi insieme a Strane Storie. Che cos'è la santità? Siamo abituati ad associare questa parola alla religione come risultato di un cammino spirituale, un viaggio interiore e terreno spesso teso tra tribolazioni e opere pie, persecuzioni di qualche tipo e decisa fede nel Dio in cui si crede. Secondo la carmelitana francese proclamata santa nel 1925 Thérèse de Lisieux, la santità non consiste nel dire cose belle, non consiste neppure nel pensarle o nel sentirle. La santità consiste nel soffrire e nel soffrire di tutto. Nesce un cammino difficile e faticoso, un cammino che secondo i cattolici corrisponde a quello di Gesù Cristo, l'esempio di colui che vive e muore in Dio e soprattutto per Dio, un esempio che per i credenti è o dovrebbe essere meta agognata e forse irraggiungibile. In un discorso del maggio 2018 Papa Francesco dice «Tante volte noi pensiamo alla santità come a una cosa straordinaria, come avere delle visioni o preghiere elevatissime. Alcuni pensano che essere santo significa avere una faccia da immaginetta. Essere santi è un'altra cosa. Camminare verso la santità è camminare verso la luce, è essere in tensione verso l'incontro con Gesù Cristo». Un incontro che nella tradizione cattolica hanno raggiunto in moltissimi, visto il numero elevato di santi e sante che vengono venerati, da quelli più conosciuti, San Francesco d'Assisi, Santa Caterina della Siena, San Giovanni Bosco, a quelli più giovani come San Domenico Savio, morto a quattordici anni e canonizzato nel 1954 da Papa Pio XII o Santa Maria Ogoretti, assassinata a undici anni e canonizzata sempre da Pio XII nel 1950. Ma questa correlazione con la divinità non è l'unico significato attribuito al termine. «Santo» è anche qualcuno degno di grande rispetto, di inviolabile e sinonimo di persona retta e buona, indipendentemente dalla religione a cui appartiene. Una parola importante, «santo» come «importanti» sono il suo significato e gli esseri umani a cui viene attribuita, a volte ammirati, venerati e seguiti, a volte contrastati o malvisti, a torto o a ragione, non solo da coloro che non credono, ma persino dalle stesse autorità ecclesiastiche. Può sembrare una cosa insolita che un uomo, una donna in odore di santità possano venire contestati dalla Chiesa. Eppure è successo, con una figura molto rilevante del Novecento italiano, un frate di un paese del Gargano che nel 1918 vide il suo corpo segnato dalle Cinque Piaghe di Cristo, e si avviò in quella che fu, a tutti gli effetti, una vita di luci e ombre, fra preghiere, presunti miracoli e decisa diffidenza. Stiamo parlando di Francesco Forgione, meglio noto come Padre Pio da Pietralcina. Bentrovati, naviganti del mistero e dell'insolito. Io sono Massimo Polidoro e nel darvi il benvenuto a questo nuovo episodio di Strane Storie ho anche un annuncio da farvi. Si aprono domani al sito massimopolidorostudio.com le iscrizioni a un mio nuovo corso, il mio primo corso online sull'arte di ragionare. Saranno dieci moduli di lezioni, ore e ore di video di approfondimenti psicologici, storici, decine di documenti da scaricare, podcast, esercitazioni pratiche e tantissimo altro. Un corso che ognuno potrà seguire quando vorrà, con i tempi che vorrà. E ho voluto chiamare l'arte di ragionare questo corso perché sarà un vero e proprio viaggio che faremo insieme per sviluppare le nostre capacità critiche, per imparare a ragionare e a prendere decisioni basate sui fatti e non sulle reazioni impulsive. E sarà tutto disponibile al sito massimopolidorostudio.com, ma ne parliamo più tardi. Ora, usando proprio quegli strumenti di indagine scientifica e critica che insegnerò nel corso, ci occupiamo oggi di uno dei personaggi circondati dal mistero più discussi del nostro paese. E per farlo dobbiamo tornare al secolo scorso, tra alcuni dei momenti più bui della storia italiana, per scoprire la vicenda terrena di un uomo tanto venerato quanto controverso. Nel 1899 una giovane ragazza di Lucca, Gemma Galgani, documenta nel suo diario le esperienze mistiche che sta affrontando e che l'8 giugno dello stesso anno culmineranno nel più riconoscibile ed esplicito marchio di santità, le stigmate. Le mani di Gemma, vent'anni e una forte devozione al sacro cuore di Gesù, sanguinano ogni venerdì in un'estasi dolorosa che, secondo le parole della ragazza, dura fino al sabato mattina, quando le ferite si rimarginano in autonomia. Nei quattro anni successivi, Gemma morì a 25 anni nel 1903, sia il suo confessore Monsignor Giovanni Volpi che alcuni medici che la visitarono, tra cui il primario di chirurgia dell'ospedale di Lucca, Pietro Fanner, sostennero che i fenomeni legati alle esperienze mistiche, quindi anche alle stigmate, fossero di origine isterica. Monsignor Volpi, sembra, cambiò idea in seguito, ma chi da subito si convinse della veridicità di ciò che accadeva a Gemma fu Germano Ruoppolo, suo padre spirituale nonché postulatore generale dell'Ordine dei Passionisti a Roma. Nel 1907, mentre veniva avviata la causa di beatificazione, Ruoppolo pubblicò Biografia di Gemma Galgano, Vergine Lucchese, che ebbe un discreto successo, arrivando alla sesta edizione. Ora, perché parliamo di Gemma Galgani in una puntata dedicata a Padre Pio? Non è solo questione di marchi divini che la accomunano al frate di Pietralcina e neppure di persone che non ritengono genuini questi marchi. No. C'è un'altra cosa. Nel 1909 padre Germano pubblica un secondo libro dedicato alla Santa, Lettere ed Estasi della Serva di Dio Gemma Galgani, sempre con lo stesso editore, la tipografia pontificia dell'Istituto Pio IX. Il libro contiene le lettere di Gemma a padre Germano e una copia, ne circolarono 8.200 circa, arrivò nelle mani di padre Pio, che nel 1910 era stato ordinato sacerdote e manteneva una corposa corrispondenza con i suoi due direttori spirituali, padre Benedetto e padre Agostino, entrambi da San Marco in Lamis. Una corrispondenza da parte del giovane sacerdote pregna di una visceralità e di un linguaggio più inclini alla mistica. Il 21 marzo 1912, in una missiva a padre Agostino, successiva all'ultima messa, Pio scrive, dal giovedì sera fino al sabato, come anche il martedì, è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani e i piedi sembrami che siano trapassati da una spada, tanto è il dolore che sento. Il demonio, intanto, non cessa di apparirmi sotto le sue orride forme e di percuotermi in un modo veramente spaventevole. Parole queste che ho appena citato che appaiono profetiche per quello che accadrà. Quasi il frate iniziasse ad avvertire il suo futuro da stigmatizzato. Qui c'è il nesso, quell'altra cosa che accomuna Gemma Galgani, il secondo libro di padre Germano e il sacerdote di Petralcina, ma ne parteremo un po' più avanti. Da quella e molte altre lettere passarono sei anni. Il 20 settembre 1918, verso le nove di mattina, padre Pio è raccolto in preghiera nella chiesa conventuale in solitudine, quando improvvisamente vede davanti a sé un misterioso personaggio che perde sangue dalle mani, dai piedi e dal costato. Intimorito, il frate chiede l'aiuto di Dio e quella figura svanisce immediatamente. Tuttavia il sollievo non dura neppure un istante. Anzi, terrorizzato, padre Pio si rende conto che le stigmate della crocifissione di Gesù sono ora sul suo corpo sanguinanti. Mi avvedi che mani, piedi e costato, scriverà in seguito a padre Benedetto, erano traforati e grondavano sangue. Tutto il mio interno piove sangue e più volte l'occhio è costretto a rassegnarsi e a vederlo scorrere anche al di fuori. Temo di morire dissanguato. L'incredibile evento viene però tenuto segreto dal frate. I segni scritti sul suo corpo sono il martirio di Cristo. Come fare a raccontare qualcosa del genere? La paura dura qualche settimana. Poi padre Pio scrive a padre Benedetto che informa della faccenda due persone. In primis, padre Venanzio Dalil-Anrigo, il ministro generale dell'ordine Cappuccino, che gli raccomanda riservatezza e prudenza. E poi, il 5 marzo 1919, padre Agostino. In lui non sono macchie o impronte, scrive Benedetto, ma vere piaghe, perforanti le mani e i piedi. Io poi gli osservai quella del costato, un vero squarcio che dà continuamente o sangue o sanguigno umore. Il venerdì è sangue. Lo trovai che si reggeva a stento in piedi, ma lo lasciai che poteva celebrare e, quando dice messa, il dono è esposto al pubblico, dovendo tenere le mani alzate e nude. A differenza di San Francesco, le cui stigmate ricevute verso la fine della sua vita vennero mantenute nascoste, il frate Cappuccino non potrà fare altrettanto e la congregazione del Santo Uffizio si troverà tra le mani una questione pesantissima. La presenza di un alter Christus in un periodo storico complesso, dove il clerico fascismo, a più riprese, si rafforzò nella riconquista cattolica della società italiana. Un contesto che occorre sempre tenere presente per avere un quadro più completo, per cercare di capire il fenomeno Padre Pio, un fenomeno che si intreccia con la storia italiana, quella con la S maiuscola, in un Novecento scosso da due guerre devastanti, da una religiosità che, fra alti e bassi, risulterà sempre e comunque più forte della presunta laicità dello Stato e soprattutto da un piccolo sconosciuto convento di Cappuccini isolato tra i monti del Gargano, che diventa uno dei luoghi di pellegrinaggio più famosi e frequentati del cattolicesimo europeo. In mezzo un frate, il santo più venerato nell'Italia del ventunesimo secolo, un cappuccino che dal 1918 al 1968 e oltre farà parlare di sé. Un uomo di luce, secondo moltissimi credenti. Ma dove c'è luce, inevitabilmente ci sono anche delle ombre. Pietralcina è un comune italiano con poco più di 2.800 abitanti, in provincia di Benevento, in Campania. Oggi è un centro di turismo religioso, ma nel 1887 ancora non era stato insignito del titolo di città e aveva visto la propria popolazione decimata dall'epidemia di colera del 54. È qui che il 25 maggio del 1987, in Vico Stortovalle, nasce Francesco Forgione, figlio di Grazio Forgione e Maria Giuseppa di Nunzio. La sua era una famiglia religiosa, in particolare la madre, che scelse il nome Francesco, in quanto molto devota al santo di Assisi. Il giornalista Mario Guarino, nel suo libro Beato impostore del 1999, modificato poi in Santo impostore nel 2003 con una edizione aggiornata, racconta un aneddoto di infanzia. Intorno all'età di nove anni Francesco sarebbe stato sorpreso da sua madre in una situazione molto particolare, mentre si flagellava con una catena di ferro. Mi devo battere, come i giudei hanno battuto Gesù e gli hanno fatto uscire il sangue dalle spalle, si sarebbe giustificato lui con la madre, secondo i suoi biografi. La giovinezza di Francesco era insomma già segnata dalla religiosità, in una realtà popolare e contadina impregnata di credulità e superstizioni. E a ogni anno passato a Pietralcina il figlio dei Forgione veniva sempre più considerato inodore di santità. In un tema, assegnatogli dal maestro Caccavo nel settembre 1902, racconta ancora Guarino, intitolato «Se io fossi re», l'allievo quindicenne Francesco Forgione scrisse «Oh, se fossi re, combatterei prima di tutto il divorzio da molti cattivi desiderato e farei sì che il sacramento del matrimonio fosse maggiormente rispettato. Io cercherei di illustrare il mio nome col battere sempre la via del vero cristiano. Guai, poi, a coloro che non volessero seguirla. Li punirei subito, o col metterli in prigione, o con l'esilio, oppure con la morte». Il 6 gennaio 1903 Francesco, che pochi giorni prima disse ad aver avuto una visione che gli preannunciava la sua guerra con Satana e un'altra prima del viaggio, in cui Dio e Maria gli assicuravano il loro supporto, partì per il convento di Morcone, sempre in provincia di Benevento, dove, il 22 gennaio, assumerà il nome di Fra Pio, con la vestizione dei panni di probazione. Da quel momento il suo percorso scolastico, l'apprendistato ecclesiastico e poi gli esordi del ministero sacerdotale si snoderanno attraverso i conventi cappuccini della provincia beneventina e di quella di Campobasso. Ma insieme alla teologia e alle preghiere si acuirono anche i tanti malanni di cui padre Pio è stato soggetto. La particolarità di questi problemi di salute era tuttavia la loro alternanza. Quando Pio tornava a Pietralcina sparivano, per ricomparire quando rientrava in convento. Fu questo il motivo che indusse i superiori a concedere al ragazzo frequenti periodi di convalescenza a casa. Nel suo paese natale Pio ci rimase fino al 1916, quando partì per il convento foggiano di Sant'Anne e vi restò, qualcuno dice costretto, per qualche mese, prima del suo arrivo al convento di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia, dove si stabilirà definitivamente dalla primavera del 1918. Ma restiamo un attimo nei primi anni Dieci, perché, mentre la fama di padre Pio inizia e a seguirlo nei suoi spostamenti, il mondo intero precipita in qualcosa di terribile, la prima guerra mondiale. La storia è tristemente nota a tutti. Il 28 giugno 1914 l'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono austro-ungarico, viene assassinato insieme alla moglie Sofia da Gavrilo Princip, in quello che è conosciuto come l'attentato di Sarajevo, i casus belli del primo conflitto mondiale. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato in un altro video. Un mese dopo l'impero austro-ungarico dichiara guerra al regno di Serbia. Scattano le alleanze e le potenze mondiali con rispettive colonie e si mobilitano per il conflitto. Oltre 9 milioni di soldati morti, circa 7 milioni di civili, carestie, epidemie, un'ecatombe devastante che si conclude con l'armistizio della Germania, l'11 novembre 1918. La generazione perduta, come Gertrude Stein definì i giovani che parteciparono alla guerra, comprendeva anche italiani che dalle infernali trincee tornarono a casa con ferite non sempre visibili esteriormente ma ugualmente profonde. Uomini rotti, spezzati. E in quel momento dove la grande guerra stava finendo, ecco che ne iniziava un'altra, quella contro l'epidemia di influenza spagnola, che dal 1918 al 1920 farà più morti del conflitto. 1918 è proprio l'anno in cui le stigmate si manifestarono sul corpo di Padre Pio. E proprio l'anno in cui i fedeli pregavano e speravano in qualcuno, Gesù o magari un santo, che li liberasse da tutto quell'orrore, dalla miseria, dalla morte. Insomma, in quel preciso momento, così bisognoso di sacro, arrivò una risposta altrettanto precisa. Padre Pio ricevette le stigmate quando la morte andava bussando a tutte le case di San Giovanni del Gargano, della Puglia, dell'Italia, d'Europa, commenta Luzzatto. Non che il frate di Pietralcina tutta quella morte l'avesse vissuta davvero in prima persona. La grande guerra toccò molto poco la vita di Pio, che nel 1915 venne convocato presso al distretto militare di Benevento, arruolato come prete e soldato, ma subito mantenuto in osservazione all'ospedale militare di Caserta per una diagnosi di apparente tisi. Poi venne assegnato alla decima compagnia di sanità militare a Napoli, ma durò poco. Con qualche raccomandazione ottenne un anno di licenza per motivi di salute e tornò a Pietralcina, dividendosi tra il paese natale e i conventi Capucini di Foggia e San Giovanni Rotondo. Passato l'anno di permesso tornò a Napoli per una nuova visita medica. E il risultato furono ulteriori sei mesi di licenza per convalescenza, che conclusa San Giovanni, dove ritrovò subito la salute, salvo affrontare nuovamente ogni notte il maligno. «Fui bastonato, ma ho vinto la battaglia», rispose al superiore che gli chiedeva chiarimenti su ciò che accadeva nella sua stanza. La guerra con Satana, tuttavia, non sostituiva quella mondiale e dopo i sei mesi di licenza Pio venne riportato al comando militare di Napoli, giudicato idoneo al servizio e aggregato alla caserna Sales, in cui resterà da settembre a novembre, evitando il fronte al quale era stato assegnato il suo contingente sanitario, grazie questa volta all'intervento di amici autorevoli mai specificati che, per ragioni di salute, lo riconsegnarono all'ospedale militare. Il prete soldato Francesco Forgione visse la sua grande guerra lontano dalla guerra. Molto preoccupato dalla sua salute. «Se Gesù non mi sosterrà, scrisse in una lettera a Padre Benedetto, e non mi verrà in aiuto, dovrò soccombere certissimamente». Alla fine, dopo una nuova licenza, un ritorno a Napoli dove si riammalò subito, venne congedato definitivamente. «Lo spirito e il corpo di Padre Pio», scrive Luzzatto, erano troppo presi dalla guerra contro il male per fare spazio alla guerra contro gli austriaci. Quando i fuochi del conflitto mondiale si spensero, pur con le problematiche dell'influenza spagnola, la notizia dei segni divini sul corpo di Padre Pio iniziò a circolare ben oltre San Giovanni Rotondo, ben oltre il Gargano, perfino oltre i confini nazionali, espandendosi in Europa e assicurando non solo fama crescente per quel piccolo convento, ma anche alcuni grattacapi di ordine pubblico e soprattutto l'inizio di una bagarre mediatica e clericale. Il Mattino, giornale napoletano fondato nel 1892 da Edoardo Scarfoglio e Matilde Serau, si prende in carico di svelare al mezzogiorno la figura simpaticissima, così la definiscono, del religioso. «Il miracolo d'un frate cappuccino, il santo di San Giovanni Rotondo», titola un articolo. Padre Pio, il santo di San Giovanni Rotondo, opera un miracolo nella persona del cancelliere del paese, titola un altro. Grazie al corrispondente del giornale a San Giovanni, Adelchi Fabroncini, legato peraltro da stretto vincolo di parentela con la prima e prediletta delle figlie spirituali di Pio, Nina Campanile, il Mattino riuscì a entrare più di altri nello specifico delle stigmate, scrive il giornale. Nel centro delle mani e dalla parte della palma e del dorso c'è una macchia color rossastra, quasi sanguigna, che dà l'idea di una crosta di ferita. Le macchie, in parola, hanno la grossezza di un soldo. Facendo capitare le macchie fra il pollice e l'indice e premendo queste due dita, si ha l'impressione che al di sotto di quelle pelletiche ci sia il vuoto. Tant'è vero che le dita si affondano fino a toccarsi nel mezzo della doppiezza della mano. Nessun ostacolo si risente nel vuoto, eppure le dita del padre hanno tutte le articolazioni. Poi ovviamente ci sono i miracoli, come la guarigione di Giuseppe Pazienza, proprietario terriero guarito grazie a una pezzuola intrisa di sangue del costato di Pio, che la moglie aveva recuperato dal convento e tenuto premuta per tutta la notte sul petto del marito, ripresosi poi in qualche giorno. O come la figlia del meccanico Vincenzo Gisolfi, padre Pio le appare una notte, la accarezza e poi svanisce, lasciando la giovane totalmente ristabilita il giorno successivo. Con tutto questo e altro ancora, con chissà quanti infermi e devoti che vedono l'apparizione del frate o ne richiedono la protezione, o si ritrovano guariti dopo aver utilizzato in vario modo le reliquie dell'uomo con le stigmate? Ecco, dopo che la fama di Pio cresce superando i confini di San Giovanni in modo così rapido e irresistibile, non sono solo i giornali pronti a cavalcare la vox populi a capire che padre Pio era qualcosa di molto più che un santone improvvisato e innalzato dalle superstiziosi genti del meridione. Episodi semplici ma belli, scrive il mattino riferendosi alle gesta del frate. Non può essere tutto un parto di fantasia popolare. Eppure, qualcuno è convinto del contrario. Qualcuno che ha intenzione di vederci chiaro sulla faccenda. L'aura di santità, i presunti miracoli, i divini segni fisici che padre Pio porta con sé da Pietralcina a San Giovanni Rotondo, passando per le tappe intermedie come Napoli, non attirano solo l'attenzione dei fedeli in adorazione, ma anche di coloro che non credono nella genuinità della situazione. In primo luogo alcuni abitanti di San Giovanni, che nella primavera del 1919 spediscono una lettera al Santo Uffizio, il dicastero discendente dall'Inquisizione, riorganizzato nel 1908 da Pio X e oggi chiamato Congregazione per la Dottrina della Fede. Firmandosi un gruppo di fedeli, quindi restando nell'anonimato, i mittenti raccontavano una situazione all'opposto di quanto visto finora. La propaganda di poche donnicciuole malate, come vengono definite, in combutta con gli abili frati del convento, capaci di utilizzare la fama di santità del loro confratello per guadagnare soldi e favori. Un culto idolatrico, così viene definito quello che sta accadendo a San Giovanni. Ormai non più confinato tra le mura del convento, ma capace di richiamare nel Gargano masse di viaggiatori credenti. Per questi fanatici visitatori non continua una lettera. Non esiste più Dio e la Santa Vergine, esiste solo Padre Pio, il santo che predice, legge nei cuori, sana ammalati, si trasporta da luogo a luogo. Alla prefettura di Foggia, contemporaneamente alle prime lettere anonime inviate a Roma, come sottolinea Luzzato nella sua preziosa inchiesta, arrivò un esposto firmato da un gruppo di cittadini di San Giovanni, un esposto molto specifico. Si chiedeva un'indagine su Padre Pio e i suoi miracoli, su cui eventualmente si approfittava del largo numero di devoti e si domandavano misure profilattiche a causa di pellegrini provenienti da paesi con problemi di vaiolo e tifo che vicini a Padre Pio, malato di tubercolosi polmonare, cito, ne raccattano gli sputi sanguinolenti. Il sottoprefetto di Foggia viene inviato a indagare. L'ordine pubblico non è in pericolo, scriverà nel suo rapporto, ma i pochi alberghi e i molti stallaggi improvvisati vanno sorvegliati. C'è però qualcosa in più. Nel rapporto vengono descritte le stigmate di Pio, macchie di forma quasi circolare, di colore giallo-scuro, come quelle, aperte virgolette, prodotte dalla tintura di iodio. Lo stesso commento fatto da un professore, Enrico Morrica, sul mattino del 30 giugno, in cui si cita il colore caratteristico della tintura di iodio passata sopra epidermide fisiologica. Sempre nel 1919 spunta il primo santino di Padre Pio con le stigmate e da lì ha inizio un'officina del culto, che negli anni produrrà senza sosta, dimostrando anche come il frate di Pietralcina fosse meno restio a farsi fotografare di quanto si andava leggendo su certi giornali. Giornali che si lanciano pure nel riportare una profezia da Vox Populi. Il frate è giovane, scrive il mattino del 5 giugno 1919, avendo meno di 33 anni, e dicono che abbia predetto prossima la sua fine, ossia appena avrà precisamente compiuto i 33 anni. Un altro Cristo a tutti gli effetti, ma siamo ben consapevoli che si tratta di una profezia fasulla. Padre Pio muore il 23 settembre 1968, all'età di 81 anni. Con buona pace di rivelazioni e divinazioni da circo. Inizia la costruzione di un mito indissolubile per moltissimi credenti. Una costruzione che si concentra proprio a partire da quella finta profezia dagli anni 20 e lungo i 30 del 1900. È il periodo in cui l'Italia è preda del fascismo, nella sua ascesa al potere. E Pio, apparentemente lontano dalla politica, immerso nella religione e nella santità, non manca invece di intessere rapporti con il clerico-fascismo. Non è la politica fine a se stessa a interessarci qui oggi. E chiunque voglia approfondire questo aspetto troverà dei link nella bibliografia e delle fonti utilizzate. Ma, se come già accennato possa sembrare che nulla centri con la vita e i miracoli di un uomo, come Padre Pio, è invece corretto dire altrimenti. La politica e più nello specifico il fascismo è stato il terreno fertile dove la leggenda, il mito, la favola di un santo ha potuto germogliare. 15 agosto 1920 e 15 ottobre 1920, in mezzo il massacro di San Giovanni Rotondo, il 14 ottobre. Dopo le elezioni amministrative a San Giovanni, all'inizio di ottobre, i socialisti escono vincitori dalle urne . Nulla di eccessivo, ma in qualunque caso il PSI si prepara a governare la città. E la data dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale era il 14 ottobre, con tanto di dichiarazione socialista sull'intenzione di hissare la bandiera rossa dal balcone del municipio. L'idea non andava però a genio alla parte politica opposta ai popolari, cioè i cattolici, i liberali e gli ex combattenti, il cosiddetto fascio d'ordine, che attende il corteo socialista di fronte al comune, il quale Portone è bloccato dai carabinieri. Per farla breve, i due cortei si scontrano e, alla fine, le forze dell'ordine sparano sulla folla. 14 morti, 13 del corteo socialista e un carabiniere e 80 feriti. L'inchiesta del commissario Vincenzo Trani terminò con una relazione per la Direzione Generale della Pubblica Sicurezza in cui si stabilì la natura provocatoria del comportamento ottenuto dagli ex combattenti. Se volete farvi una vostra idea, potete trovare un ottimo resoconto nel libro di Sergio Luzzatto, che abbiamo già citato, o nella relazione di Vincenzo Trani. Quello che ci interessa è quello che accadde prima e dopo questo eccidio e come la figura di padre Pio, pur non facendone parte e pur non partecipando, fosse chiaramente schierata. Il 15 agosto 1920 il frate con le stigmate a bordo di un'auto viene scortato da ex combattenti e mutilati di guerra lungo il percorso dal convento alla piazza principale di San Giovanni Rotondo, in mezzo a due ali di folla. Una volta in piazza Pio leva la mano destra, guantata, benedicendo le bandiere e i gagliardetti delle associazioni combattentistiche, in pratica schierandosi in una scelta di campo, in un momento storico dove gli ex combattenti del Foggiano, guidati da Giuseppe Caradonna, avevano organizzato le prime squadracce in accordo con gli agrari. E proprio Caradonna, leader del nascente fascismo e squadrismo foggiano, entrò all'indomani del massacro di San Giovanni nell'entourage di padre Pio, di fatto sancendo una relazione tra chiostro e politica, non solo locale. Non c'era più soltanto una folla di cattolici devoti, ma dal 1922 anche una guardia pretoriana, che avrebbe impedito a chiunque di sottrarre Pio alla comunità sangiovannese, magari trasferendolo il tutto sotto l'occhio vigile di Caradonna, che nell'ascesa del fascismo vide anche la sua come incontrastata e dispotica autorità. Un'autorità che rese molto difficili i movimenti delle gerarchie vaticane che volevano vederci chiaro in quello che stava accadendo nel Gargano, perché tutto quello che abbiamo detto finora, tutta la vita mistica in odore di santità del frate di Pietrelcina, non passa inosservata alla chiesa di Roma, ed è l'inizio di una inquisitoria guerra santa. È da escludersi che la eziologia delle lesioni di padre Pio sia di origine naturale, ma la gente produttore debba ricercarsi senza tema di errare nel sovrannaturale. Queste sono le parole che il dottor Luigi Romanelli, primario all'ospedale civile di Barletta, che già aveva cercato precedentemente una grazia da padre Pio, riferisce alle autorità ecclesiastiche, dopo aver visitato, primo medico di una lunga serie, il frate al convento di San Giovanni Rotondo nel maggio 1919. Romanelli spiega le piaghe cristiche con un intervento divino, ma quell'opinione non soddisfò completamente le autorità ecclesiastiche. Nel luglio 1919, l'ordine dei cappuccini richiese il parere di un medico decisamente più autorevole, amico Bignami, ordinario di patologia medica all'Università La Sapienza di Roma e specialista della malaria. Il risponso di Bignami fu interessante. Non reputò l'autolesionismo come fattore generante principale, cosa che in tanti ormai sospettavano, ma parlò di un fattore fisiologico e di uno artificiale. Il primo, le alterazioni della cute presenti sulle mani, si poteva diagnosticare come necrosi neurotica multipla, ma la diagnosi non spiegava la persistenza nel tempo e neppure la posizione simmetrica. Qui subentra il secondo fattore, cioè un intervento diretto di Pio. Possiamo infatti pensare, commenta Bignami, che le lesioni descritte siano cominciate come prodotto patologico e siano state, forse inconsciamente e per un fenomeno di suggestione, completate nella loro simmetria e mantenute artificialmente con un mezzo chimico, per esempio con la tintura di iodio. In altre parole, una o entrambe le ferite sarebbero dovute a una qualche forma di malattia. Ma poi, forse senza rendersene conto, suggerisce generosamente il medico, lo stesso padre Pio ha provveduto a impedire loro di rimarginarsi, utilizzando della tintura di iodio. Per le stigmate di piedi e torace il risponso fu differente. Nessuna necrosi cutanea, solo una pigmentazione bruna dell'epidermide, irritata dall'applicazione ripetuta di una sostanza caustica. Probabilmente tintura di iodio fatta invecchiare. A questo punto, non credo vi sia sfuggito come questo elemento, la tintura di iodio, questa soluzione disinfettante inizia a essere piuttosto ricorrente. Nel frattempo, comunque, il culto delle reliquie di padre Pio è già esploso. La folla, raccontò il guardiano di Santa Maria delle Grazie, ha tagliato piante, camicie, cingoli, persino le sedie dove sedeva padre Pio. Sparisce la biancheria sporca affidata alle lavandaie di San Giovanni, le camicie, anche solo le parti insanguinate di quelle camicie. Ogni cosa si attribuisse al frate stigmatizzato, spariva. Tanto che il ministro provinciale tentò di arginare il fenomeno, suggerendo che Pio potesse concedere grazie anche a distanza per evitare che troppi fedeli giungessero in città. Da qualche tempo, commenterà, si osserva che i beneficati per intercessione del buon servo di Dio non sono quelli che affrontano il disastroso viaggio, ma quelli che sanno pregare il Signore da lontano. Inoltre, diede tassative e disposizioni ai frati di Santa Maria delle Grazie per non incoraggiare il culto per padre Pio, ma ormai non si poteva granché contro il fanatismo e l'affarismo, così lo chiamò il ministro, della popolazione. Il culto era inarrestabile e fu in quel momento che al santo ufficio arrivò un rapporto, quello di padre Agostino Gemelli. Medico, psicologo, accademico e francescano, Gemelli sarà il fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano e al convento di San Giovanni Rotondo resterà un giorno tra il 19 e il 20 aprile 1920, trascorrendo qualche ora con padre Pio, ma apparentemente senza ottenere la possibilità di una visita medica. Interrogatorio psichiatrico, così lo definirà lo stesso Gemelli, che nel Gargano si era arrecato di propria iniziativa, seppure come riportano alcune fonti, su invito del cardinale Meri del Val. Tre furono alla fine i rapporti inviati. Padre Pio, scrive Gemelli, sembra un uomo a ristretto campo della coscienza, abbassamento della tensione psichica, ideazione monotona, abulia e ancora. Da tutto l'insieme al sottoscritto sembra che si tratti di un caso di sottoscritto e di una suggestione inconsciamente prodotto dal padre Benedetto, che era il direttore spirituale, in un soggetto malato, come il padre Pio, e che ha condotto a quelle caratteristiche manifestazioni di psittacismo che sono proprie della struttura isterica. Lo psittacismo è la tendenza a ripetere e a imitare meccanicamente parole, idee o comportamenti altrui, come appunto un papagallo. E il terzo rapporto? Prima che venisse redatto e inviato, anche in risposta alle critiche del medico romano Giorgio Festa, che aveva visitato Pio nel 1919 e nel 1920, restando incantato ed entusiasta, accade qualcosa. Il 31 maggio 1923 il Sant'Ufficio dichiara il «non constat de supernaturalitate» come dire «non sembra esserci proprio niente di sovrannaturale». E la formula dubitativa della Chiesa Cattolica riguarda un evento di cui non si può confermare né l'origine non soprannaturale né l'opposto. In pratica, è un'esplicita condanna, con la quale poi si invitano i fedeli a non recarsi a San Giovanni Rotondo e a non credere a ciò che lì sta accadendo. Tre anni più tardi padre Agostino Gemelli scrisse il terzo rapporto, in cui svelò di essere già stato precedentemente al 1920 al convento. Insieme al segretario del vescovo di Foggia e di aver avuto modo, fingendosi, convinto della santità e dei doni divini di padre Pio, di parlare con padre Benedetto e poi con il frate stigmatizzato, esaminandone le piaghe. Chi ha pratica di medicina legale, scrisse, non può sottrarsi al giudizio che si tratta di piaghe dovute all'erosione, praticata mediante caustici. Il fondo delle piaghe, la forma di esse, è in tutto simile alle piaghe osservate in soldati che se le erano procurate con l'azione di sostanze chimiche. Dall'esame, adunque, delle lesioni del padre Pio sorge il legittimo sospetto che si tratti di caratteristiche e note autolesioni. Io ho stimolato il padre Pio a ragionare di cose sante, non mi ha seguito, ma si noti io ho fatto una ben dolorosa scoperta. Si tratta di un soggetto a intelligenza ben limitata. Padre Pio presenta le note e caratteristiche di una deficienza mentale di grado notevole con conseguente restringimento del campo della coscienza. In lui, cioè, si hanno le migliori condizioni per costituire con l'ex provinciale padre Benedetto la coppia incubi-succube. È un buon religioso, tranquillo, quieto, mansueto, un povero uomo che ripete qualche frase stereotipata di carattere religioso, un povero malato che ha imparato la lezione da padre Benedetto, suo maestro. Padre Gemelli conclude con un macigno il suo rapporto. Ritengo che il padre Pio sia uno psicopatico, senza potermi per ora pronunciare sul genere e sulla natura di questa psicopatia. Insomma, un mistico da clinica psichiatrica. Come vedete, più ci si addentra nella storia e controstoria di padre Pio e più le informazioni aumentano a dismisura. Un oceano di racconti, aneddoti, fatti, fantasie, profezie, miracoli, collusioni, misteri. Tutto è il contrario di tutto. Non basterebbe un episodio solo per portare alla luce ogni cosa e, come già detto altre volte, non è questo il luogo per certi argomenti. No. Il focus che ci interessa è uno solo e, dopo aver contestualizzato la situazione e l'uomo, facciamo un ultimo passo nel mito del santo con le stigmate. Chi è? Come si è mosso? Cosa ha fatto, realmente, padre Pio da Pietralcina? Abbiamo visto la base dalla quale è partita il suo culto, le radici culturali, le voci discordanti che si sono altalenate sulla sua persona e sui suoi presunti miracoli. Abbiamo visto il risponso di alcuni medici sulle sue piaghe. Una storia infinita che arriva fino al 1968 e oltre, ma che nel 1931 sembra interrompersi quando Papa Pio XI, su proposta del Sant'Ufficio, dispone la sospensione a divinis per padre Pio, una sanzione disciplinare che vieta di amministrare i sacramenti, la messa e la confessione. Il culto del frate è in difficoltà, ma ecco che entra in scena un personaggio molto particolare, Emanuele Brunatto, che lo storico Sergio Luzzato definisce il Pietro dell'alter Cristus Garganico, l'apostolo primo e maggiore, il fondatore del culto organizzato. Brunatto, la cui presenza sullo sfondo già aveva insospettito Agostino Gemelli nel 1926, era un abilissimo e intraprendente faccendiere, un millantatore incallito, uno spregiudicato ricattatore e un doppio giochista impenitente. Si deve a lui una delle prime agiografie di Pio, un libro, uscito nel 1926 per una casa editrice fascista. Si deve a lui lo sviluppo del culto, grazie all'investimento sul contenuto politico di un fenomeno religioso, attraverso il coinvolgimento dell'intelligenza fascista nella diffusione della Vox Populi su padre Pio. Mentre il frate era sottoposto alle restrizioni vaticane, scrive il giornalista Leonardo Bianchi, il faccendiere devoto mise in piedi un intricato ricatto ai danni del Vaticano, minacciando di pubblicare alcuni ribelli sugli scandali veri o presuntitali di alti prelati, che qualcuno ha definito il vatilix dell'epoca. Sebbene padre Pio pare non approvasse i metodi, il lavoro di Brunatto consentì la riabilitazione del frate nel 1933, quando le gerarchie vaticane tornarono in parte sui loro passi. Brunatto, continua Bianchi nel suo articolo, che nel frattempo si era stabilito a Parigi, diventò prima della Seconda Guerra Mondiale una spia del regime fascista in suolo francese e poi assunse le vesti di collaborazionista dei nazisti nella Francia occupata. Tra il 1940 e il 1941 si dedicò all'attività di trafficante sul mercato nero. Dopo aver tirato su una fortuna, dimostrò di non essersi dimenticato di padre Pio. Nel giugno del 1941 inviò un versamento di 3 milioni e mezzo di franchi al Comitato per la Costruzione della Clinica di San Giovanni Rotondo, cioè l'ospedale che da parecchi anni padre Pio voleva costruire a ridosso del convento e che sarà completato nel 1956 con il nome di casa sollievo della sofferenza. Interessante e spiacevole far notare come il benemerito ospedale del frate con le stigmate affonda i propri natali finanziari, letteralmente, nell'alcol, con cui il collaborazionista Brunatto innaffiò i banchetti parigini di una Wehrmacht trionfante. Se è vero che la fine del secondo conflitto mondiale segna anche l'ascesa definitiva del culto garganico tra star system, rotocalchi e nuovi o modernizzati mass media, è altrettanto vero che in Vaticano c'era ancora qualcuno di ostile e non un qualunque porporato, bensì il Papa in persona Giovanni XXIII. Un idolo di stoppa, così il pontefice apostrofava padre Pio negli anni Sessanta e tanto gli era avverso da inviare San Giovanni Rotondo Monsignor Carlo Maccari, che produsse un dossier in cui descriveva l'alto tenore di vita dei frati di Santa Maria delle Grazie alla faccia del poverello di Assisi, con gruppi di donne che passavano anche la notte al convento e un commercio di bende sporche di sangue e di gallina come reliquie dello stigmatizzato. Giovanni XXIII prese atto del fanatismo descritto da Maccari con fermenti di idolatria e forse anche eresie tra la superstizione e la magia. In tutto questo padre Pio non arretrava, pienamente inserito nel suo stesso gioco di propaganda e dopo la morte del Papa Buono, come veniva chiamato Giovanni XXIII, nel 1963, la strada per la santità era spianata. Il 30 luglio 1964 Papa Paolo VI restituisce a padre Pio ogni libertà nel suo ministero e anche di più, mentre diverse attività finanziarie legate o gestite dal frate con le stigmate, passavano nelle mani della Santa Sede, forse conscia che l'età di Pio iniziava a essere consistente e che un accordo tra Vaticano e Convento San Giovannese avrebbe giovato entrambe le parti. E così fu. Lo Ior redasse due testamenti e Pio firmò tutto, compresa una dichiarazione pubblica in cui smentiva le notizie che lo volevano segregato. Il resto è storia. Padre Pio muore nel 1968. Il 21 gennaio 1990 viene dichiarato venerabile. Nel 1999 beatificato. E infine, il 16 gennaio 2002, la fabbrica dei santi di Papa Giovanni Paolo II lo elevò alla santità ufficiale. Tutto a posto, quindi. L'epopea di un uomo di religione, di un santo ingiustamente perseguitato, ha trovato infine la via della giustizia dell'uomo, oltre che divina. Ma è davvero così? In verità è difficile, molto difficile, trattare con razionalità qualcosa che la razionalità rifugge, annidandosi nel campo minato della religione e dello straordinario regno della fede. Perché sì, come abbiamo visto e come ha detto San Paolo, la fede sposta le montagne. Ma seguire solo con la fede è seguire ciecamente. Lo diceva Benjamin Franklin. Quindi prendiamo in esame le cose più importanti. Vi ricordate Gemma Galgani, la santa lucchese di cui abbiamo parlato all'inizio? Il libro Lettere d'estasi della serva di Dio Gemma Galgani e le parole che padre Pio aveva utilizzato nelle sue lettere di quei primi anni dieci, indirizzate ai direttori spirituali. Ebbene, le frasi utilizzate dal frate sono prese identiche, parola per parola, da una lettera della Galgani presente nel volume. E chissà se lui, Agostino o padre Benedetto, scrive Sergio Luzzato nel suo libro Padre Pio, miracoli e politica nell'Italia del Novecento, si accorsero che un'altra decina di missive del Cappuccino, datate fra il settembre 1911 e il maggio 1913, ricalcavano riga per riga, senza mai citarle, le lettere ed estasi della stigmatizzata di Lucca. Padre Pio si guardò dal segnalare ai direttori di coscienza che le parole con cui descriveva certi trasporti mistici non erano sue. Quasi per confondere le acque, volle far credere di non possedere nemmeno il volume contenente i testi di Gemma. Dal libro che sosteneva di non avere, padre Pio andava ricopiando ormai da mesi e avrebbe continuato a farlo per un anno ancora. Simile utilizzo, secondo Pierangelo Gramaglia, presbitero torinese e autore di Padre Pio da Pietralcina, Analisi di un mito, è stato fatto con i volumi Direttorio Ascetico, nel quale si insegna il modo di condurre le anime per vie ordinarie della grazia alla perfezione cristiana e in Direttorio Mistico, nel quale si insegna il modo di condurre le anime per la via della contemplazione. Libri entrambi di Giovanni Battista Scaramelli. Una collazione filologica priva di pregiudizi, scrive Gramaglia, attesta con chiarezza sia che interi brani di lettere scritte da padre Pio alle sue devote, altro non sono che citazioni riprese dalle lettere che i suoi due padri spirituali nel frattempo avevano inviato a lui, sia che nelle medesime lettere si trovano descrizioni di visioni ed estasi molto simili a quelle presenti nei volumi dello Scaramelli. Un meccanismo psicologico di identificazione? O forse la furberia di chi iniziava a capire fino a dove poteva spingersi? Il passo successivo, quello più grande, sono le stigmate, la ferita al costato. Abbiamo già visto diversi pareri, la maggior parte dei quali indica un'origine tutt'altro che sovrannaturale. Il problema di esaminarle, tuttavia, era dato anche dal fatto che Pio si comportava come fossero estremamente dolorose, ma solo in alcune occasioni. Di convenienza? Il mio caro amico e scrittore e investigatore di misteri Joe Nickell ha scritto che alcuni fedeli erano così intenti a difendere padre Pio che fecero affermazioni incredibili. Una era l'insistenza sul fatto che le lesioni alla mano fossero ferite profonde, tanto che, insisteva il devoto medico di famiglia di Pio, si poteva vedere la luce attraverso di loro. Naturalmente questa è una sciocchezza alla luce delle ferite autentiche in generale e di quelle densamente incrostate di sangue di Pio in particolare. C'erano altri problemi con le ferite, inclusa la loro opposizione. Solo il Vangelo di Giovanni menziona la ferita di lancia nel costato di Gesù e Giovanni non specifica da quale parte. Su San Francesco era a destra mentre su padre Pio era a sinistra. I testimoni hanno descritto la sua ferita al fianco come a forma di croce. In altre parole, aveva una forma stilizzata piuttosto che realistica come prodotta da una lancia. Inoltre, le sue ferite erano nelle mani piuttosto che nei polsi. Teniamo presente che alcuni anatomisti sostengono che le mani inchiodate non potevano sostenere il corpo di un crocifisso, si sarebbero strappate. Alla domanda su questo Pio ha risposto casualmente «Oh, sarebbe troppo averli esattamente come erano nel caso di Cristo». Per anni ha indossato guanti senza dita sulle mani, nascondendo perennemente le sue ferite, lasciando spazio all'interpretazione che l'occultamento fosse una strategia astuta che eliminava la necessità per lui di mantenere aperte le sue ferite. Prima della sua morte, padre Pio celebrò la messa. Per la prima volta nella memoria di qualcuno non tentò di nascondere le sue mani in qualsiasi momento del servizio. Con stupore di tutti, non c'era traccia di alcuna ferita. Alla sua morte la sua pelle era intatta. Ma c'è qualcosa di più. Nel 1920 arrivano due testimonianze a Monsignor Salvatore Bella, vescovo di Foggia. La prima del dottor Valentini Vista, farmacista foggiano. La seconda della cugina Maria De Vito, anche lei proprietaria di una farmacia. Valentini Vista racconta di un fatto insolito al ritorno di Maria a Foggia dopo essere stata a San Giovanni. «Mi portò i saluti di padre Pio», disse, «e mi chiese a nome di lui, in stretto segreto, dell'acido fenico puro. Mi presentò una bottiglietta datale da padre Pio stesso. A tale richiesta pensai che quell'acido fenico adoperato così puro potesse servire a padre Pio per procurarsi o irritarsi quelle piaghette nelle mani». Trattandosi di padre Pio, tuttavia, il farmacista si convince che le motivazioni della richiesta siano innocenti, salvo poi preoccuparsi quando, due settimane dopo, il cappuccino torna a chiedere alla De Vito, sempre sotto consegna del silenzio, un'altra cosa, 4 grammi di veratrina. «La veratrina, è tale vileno che solo il medico può e deve vedere se sia il caso di prescriverla». Valentini di vista. Si porta dentro il sospetto per un anno e mezzo, poi decide di raccontare tutto a Monsignor Bella. Maria De Vito rilascia una dichiarazione coerente con quella del farmacista, la richiesta in segretezza di acido fenico puro da rimandare indietro a mezzo dello chauffeur che prestava servizio nell'autocarro passeggeri da Foggia a San Giovanni. La motivazione? Disinfezione delle siringhe per le iniezioni ai novizi di cui Pio era maestro. Un mese dopo i 4 grammi di veratrina e il consiglio di Valentini vista di non inviare più nulla e di non parlarne con nessuno. A sostegno di queste parole, un documento conservato nell'archivio vaticano della Congregazione per la dottrina della fede e recuperato da Sergio Luzzatto. Per Marietta De Vito SPM. Si legge sulla busta con la calligrafia di Padre Pio. Sua propria mano significa SPM. All'interno un foglietto autografo con la richiesta dell'acido fenico. Le domande sorgono in effetti spontanee. Se l'acido serviva semplicemente per disinfettare le siringhe dei novizi, perché quella segretezza? Perché non chiedere come normalmente si sarebbe fatto una ricetta al medico dei cappuccini? E perché coinvolgere l'autista di Pullman come trasportatore? Lasciamo da parte le sostanze caustiche e andiamo ancora oltre. Tralasciando le annotazioni di Papa Giovanni XXIII sui rapporti scorretti con le fedeli e l'immenso inganno. E tralasciando pure lo scandalo Giuffre, il banchiere di Dio. Anche di questo abbiamo parlato in un altro video. E non serve neppure specificare, o forse sì, a quanti parlano dello straordinario stato di conservazione del suo corpo, che quello conservato nella teca non è esattamente il corpo del frate. La testa, come ormai tutti dovrebbero forse sapere, è in silicone, creata dai Gem Studio di Londra, quelli che si occupano delle statue per il museo di Madame Tussaud. Occorre addentrarsi nei presunti miracoli, almeno nei due che gli hanno attribuito la santità, si tratta di guarigioni per intercessione. Non c'è nulla di miracoloso. Dal punto di vista scientifico, scrive Stefano della Casa, le guarigioni straordinarie si verificano e continueranno a verificarsi, indipendentemente dalla causa sovrannaturale a cui decidiamo di dare il merito a posteriori. Se si parlasse di un braccio ricresciuto a un amputato, ecco, sarebbe un altro paio di maniche. No, come dicevo, andiamo oltre. Su Huffington Post, Donaldo Antonelli scrive Lasciamo agli specialisti l'analisi socio-psicologica sul rapporto tra questo frate e la massa di devoti che lo adorano al limite del feticismo. A noi non resta che denunciare il fenomeno, un minestrone tossico di superstizione, di fanatismo, di miracolismo e, in più, l'esteriorità dei riti, la rinuncia al pensiero, l'affarismo, la furbizia, l'abuso della credulità popolare. A proposito di analisi socio-psicologiche di spiegazione prettamente psicopatologica di ciò che lo riguarda, nel 1999 lo psichiatra Luigi Cancrini firma una perizia psichiatrica su padre Pio sulla base di un'attenta analisi della biografia del frate. Osservato longitudinalmente, scrive Cancrini, il disturbo di cui ha sofferto padre Pio è, secondo il DSM-IV, il manuale diagnostico preparato dall'Associazione degli Psichiatri americani e oggi largamente utilizzato anche in Italia e in Europa, un disturbo istrionico di personalità. Osservato trasversalmente nelle sue manifestazioni sintomatiche più evidenti, il suo è un disturbo di trance dissociativa. Si può scrivere la parola fine al culto di un santo controverso e con tantissimi buchi neri nella sua storia? Ovviamente no. Si entra nel reame della religione e si rischia di restare invischiati in un pantano. Non sta alla scienza dare giudizi di santità. Questo è un compito che spetta alla Chiesa, che indubbiamente avrà le sue ragioni. Tuttavia, quando si parla di apparenti fenomeni paranormali attribuiti a un santo o a chiunque altro, è fondamentale accertare, prima di tutto, i fatti. Fatti che abbiamo visto nel corso di questo episodio sono passati attraverso la lente deformante della devozione, del cieco entusiasmo, della fede e dell'affarismo, uscendone quantomai alterati. Restano forse le parole del vescovo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, Monsignor d'Agostino a riguardo. Il Medioevo è finito da un pezzo. E voi credete ancora queste panzane? Vi ringrazio per essere stati con me e vi ricordo il mio nuovo corso online, che ho intitolato L'Arte di ragionare. Lo trovate al sito massimopolidorostudio.com. Si tratta di un percorso che permetterà di scoprire, ciascuno con i suoi tempi, come funziona la nostra mente, quali sono i meccanismi della comunicazione e della costruzione delle notizie, in che modo si può imparare a pensare in maniera più razionale, come riconoscere i trabocchetti logici e retorici, come indagare le teorie del complotto, come riconoscere le notizie sospette, come individuare i bugiardi, come applicare le più recenti scoperte della psicologia alla vita di ogni giorno, come parlare e argomentare con chi crede e moltissimo altro. Andate al sito massimopolidorostudio.com per scoprire tutti i dettagli. Guardate il video di presentazione e scaricate il programma dettagliato delle lezioni. Vi assicuro che sarà un'esperienza davvero speciale, che potrebbe cambiare il modo in cui guardate il mondo e rendervi persone più attente e capaci di navigare nel mare di informazioni e notizie spesso contrastanti che ci circonda. Ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido qui, sugli altri miei social, sbarcando sulla mia Isola del Mistero. La mia pagina Patreon, dove ormai siamo già più di 500. Bene, sbarcate anche voi, avrete subito accesso a moltissimi contenuti esclusivi, entrerete in una chat riservata e potrete leggere il vostro nome accanto a quello dei naviganti che trovate per esempio in coda a questo video. Per ora noi ci fermiamo qui, ci rivediamo venerdì prossimo però sempre alle 13.30 con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto. I grandi misteri. Come dice? Eh, dico che mi affascinano molti grandi misteri. Per esempio, lei lo sa perché George Washington fu sepolto ai piedi di una collina? Veramente no. Beh, ma perché era morto? Ha. There you go. There you go. Autore dei sovrapposti